Salve a tutti, volevo condividere un'esperienza recentissima, una cosa che volevo condividere perché non so neanche come definirla. Praticamente parte tutto dal fatto che è un piccolissimo store Bricklink dove vendo alcuni set, alcune cose dello sfuso, del surplus Lego, ok? Per ricavare dei soldi da reinvestire nel mio hobby, come fanno tantissimi, si vendono i propri set dello sfuso in eccedenza, eccetera, eccetera. Tutto inizia venerdì dove vengo contattato da questo tal signore, il quale mi chiede informazioni su un set, come erano le condizioni della scatola, gli ho mandato le foto, ho detto guardi è perfetta come segnalato già sul sito, però giustamente in giro c'è tanta gente che scrive Roma e poi vende Toma, quindi ho mandato appunto le foto di questo set che era perfettamente imballato, sigillato, senza schiacciature, bla bla bla. Attenzione stiamo parlando di un set da 12 euro, non un milione e mezzo di case in centro Roma. Mi risponde il giorno dopo, ah sì bene, sarei interessato anche a questi altri oggetti, mi manda la foto del carrello provvisorio con tutti i set a cui ho interessato e mi chiede foto, gli mando le foto, ho detto vabbè scusa, c'è scritto in condizioni sigillate perfette ad ogni oggetto, ti mando le foto di uno, vabbè mandiamo le foto anche degli altri tre, quindi fronte, retro, lati, far vedere che è tutto perfetto, non mi risponde più, ah questo succedeva sabato, non mi risponde più fino a domenica sera, dove mi chiede quanto mi fa se prendo tutto, ho detto, allora il totale erano tipo 83 euro 4 set, c'erano da aggiungerci le spedizioni, ho detto ciao facciamo 90 euro spedito e siamo posto così, oggi mi risponde, ma voglio farvi vedere la mail perché poi ho paura di passare io per cazzaro, eccolo qua, salve ho visto i prezzi su Bricklink e dei vari articoli singolarmente, ovviamente non posso comprarli da venditori diversi per i costi di spedizione, facciamo 80 euro spedito tracciato, mi sembra possa andare, visto che è fuori da Bricklink e non ci paga commissioni, cioè ha deciso già lui, va bene, ma il meglio arriva adesso come leggete, mi mandi un documento pro forma se accetta la mia proposta in cui ci siano i miei dati, i suoi dati, IBAN e l'elenco degli articoli che sto acquistando descritti come MISB, appena riceverò il pdf firmato procederò immediatamente a fare il bonifico, con la promessa che poi lei trova una scatola extra resistente e mi imballa il tutto in maniera perfetta, se per caso avvicino un'IKEA, le pago io extra le spese per una delle scatole di plastica descritte sotto, descritte sotto che non so cosa voglio dire, da mettere poi dentro uno scatolone, tanto ne faccio ampio uso in casa per riporre le cose e sono resistentissime, così il corriere può anche saltarci sopra, sono due pacchi in due giorni che mi arrivano schiacciati e sono molto sensibili sull'argomento spedizione, mi deve capire, saluti! Al che io rimango allibito perché mi vedete che sono allibito? Ha fatto tutto lui, cioè questo ha deciso il prezzo, questo ha deciso come gli devo spedire la roba, che gli devo mandare i documenti, firmare, che cazzo è un notaio? Questo è un notaio che vuole, a parte che è illegale, sia la sua richiesta che io se dovessi per sbaglio mandare i miei documenti è un reato, non si fa, non si mandano i propri documenti via mail alla gente così, e mi chiede anche se avvicino un'IKEA di andargli a comprare la scatola resistentissima, siamo alla follia, stiamo parlando di 80 euro di merce, assolutamente inutile, assolutamente superflua, cioè non stiamo parlando di organi vitali che questo mette le condizioni e io devo, gli devo qualcosa, io non devo proprio niente, ma rendiamoci conto a che livello di maleducazione e arroganza siamo arrivati. Io adesso non so gli rispondere, guardi non si preoccupi per la spedizione, vengo a casa sua, glieli porto di persona e già che vengo mi metto anche una ramazza nel c***o, così mentre cammino per casa a riporgli i set gli do anche una bella spazzata, magari ti porto anche c***o, così mentre ti metto a posto i set stai con lei, cioè è veramente incredibile. Questo per 80 euro di set che non me ne frega niente di vendere, li lascio lì dove sono e questo io non so neanche cosa rispondere, sono qui a chiedere un aiuto, un aiuto a voi, perché non so cosa rispondere, cioè saprei benissimo cosa rispondere, però non lo so, sono in difficoltà stavolta. Grazie a tutti della visione, ciao.